Si è da poco conclusa la terza puntata di X-Factor denominata L-Factor, puntata infernale perché c'è stata una doppia eliminazione. Praticamente ogni manche c'erano due persone che andavano in ballottaggio. Nella prima manche sono andati in ballottaggio Dada che ha cantato Itivore Bazziar, scusate la mia pronuncia, e Joel con Summertime Sadness. Mentre nella seconda manche sono andati in ballottaggio il gruppo dei Tropea che hanno cantato Luna dei Verdena e Matteo Orsi che ha cantato Mi sono innamorato te di Tenko. Dopo la conclusione della seconda manche c'è stato il televoto da casa per votare tra Dada, Joel, Tropea e Matteo Orsi. Quindi Joel ha cantato People of the People, Dada ha cantato Caravan Petrol, Tropea hanno cantato Insieme a te ci sto bene, Matteo ha cantato, Matteo Orsi ha cantato Ennex Exanax. Questi erano i loro cavalli di battaglia. Dette le voto da casa, Joel è stata salvata, invece Dada è stata subito eliminata, quindi è la prima eliminata di X-Factor, di questa puntata, è Dada. Oltre al voto dei giudici che dovevano giudicare i restanti, ossia Matteo Orsi e i Tropea, c'era questa cosa del meno votato del pubblico. Il meno votato del pubblico è stato Matteo Orsi, quindi aveva già un punto in più la candidatura per essere eliminato, ma anche i giudici, insomma a parte Dargen e la sua squadra, insomma gli altri giudici hanno voluto eliminare Matteo Orsi e quindi purtroppo, vi dico purtroppo perché a me piaceva molto come cantante Matteo Orsi, il secondo eliminato di questa puntata è stato Matteo Orsi. Quindi gli eliminati di stasera sono Dada e Matteo Orsi. Ciao a tutti del video! Ciao a tutti!